Infortunio pesante in casa Napoli, Luciano Spalletti perde il suo cannoniere per un problema muscolare. Victor Osiman, rientrato questa mattina alla SSC Napoli Konami Training Center di Castelvolturno, aveva un fastidio all'adduttore sinistro dopo gli impegni con la nazionale nigeriana. Si è sottoposto così ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Il numero 9, Azzurro, salterà sicuramente il match di domenica contro il Milan e quello di venerdì prossimo con il Lecce. Le sue condizioni saranno valutate all'inizio della prossima settimana, ma è fortemente a rischio anche per il doppio confronto in Champions sempre contro i rosso-neri, valido per i quarti di finale. La possibilità di un forfè è ovviamente più alta per la gara d'andata in programma mercoledì 12 aprile a San Siro, piuttosto che per il ritorno in calendario martedì 18 aprile allo Stadio Maradona dove il Napoli spera di averlo in extremis. Domenica intanto dovrebbe toccare a Giovanni Simeone, favorito su Raspadori per una maglia da titolare. Il Ciolito è già stato decisivo all'andata realizzando la rete del 2-1 che ha regalato il successo al Napoli, ma sicuramente avrà spazio pure l'ex Sassuolo che ha recuperato da un problema muscolare. Adesso è nuovamente a disposizione di Spalletti. Il Milan è una sorta di maledizione per Victor Osman, salterà quindi per la quarta volta l'appuntamento con i rosso-neri, sempre per infortunio. Già nella sfida d'andata San Siro non ha giocato, Spalletti punterà su Simeone Raspadori in attesa del ritorno del suo bomber.